Nel primo pomeriggio di ieri, 8 dicembre, intorno alle 14.30, presso la Cattedrale è stata celebrata la festa dell'Immacolata Concezione. L'evento, presieduto dall'Arcivescovo Monsignor Verucchi e organizzato dall'Ufficio Missionario di Ocisano e dai ragazzi dell'Azione Cattolica, si è concluso con il tradizionale omaggio floreale alla Madonna, grazie all'aiuto dei Vigili del Fuoco e con il tradizionale lancio dei palloncini. Un 8 dicembre speciale perché quest'anno il clima è mite, la temperatura è abbastanza altina, quindi non dico c'è caldo ma quasi, il cielo è azzurro e così tantissimi bambini sono arrivati qui accompagnati dai genitori, dai parroci e dai loro catechisti per la cosiddetta fiorita. In Duomo i bimbi hanno ricevuto il mandato missionario, i bimbi e i ragazzi della CR hanno fatto la loro promessa e hanno preso il loro impegno di vivere nell'Azione Cattolica ragazzi per tutto l'anno, tutti hanno preso l'impegno di testimoniare Gesù, molti perché purtroppo le buste non erano sufficienti per tutti i bambini hanno ricevuto delle buste con dentro un salvadanaio vuoto, durante l'anno metteranno i loro risparmi e il ricavato andrà per aiutare dei bimbi poveri, ma molto poveri del terzo mondo. Questo è il momento cosiddetto della fiorita che termina dopo la preghiera in chiesa, termina con la presentazione e la collocazione di un cesto di fiori davanti alla statua dell'Immacolata che si trova sopra la colonna collocata nella piazza tra il Duomo e il seminario. Anche quest'anno abbiamo avuto i vigili del fuoco che hanno portato il cesto di fiori davanti all'immagine della Madonna. Il tutto è terminato con il lancio dei palloncini che in questo momento staranno volando non so dove verso il mare o verso il nord.